Città metropolitana di Torino in questi giorni, come tutti gli enti in tutta Italia, ha cambiato modo di lavorare. Sostanzialmente sono cambiate le nostre abitudini, stanno cambiando le nostre abitudini perché una situazione di emergenza, di estrema emergenza, sta coinvolgendo tutta la nazione. In questo momento Città metropolitana è pronta e sta lavorando per affinare, per concludere tutta quella fase legata al lavoro, lo smart working, al lavoro da remoto. Già qualche anno fa abbiamo cambiato completamente tutta la parte infrastrutturale dei computer dell'ente, questo con l'obiettivo di poter dare lavoro, smart working, ma non nell'ipotesi di questa disgrazia che si sta capitando, però questo ci ha permesso comunque di attivarci immediatamente, anche in assenza di un regolamento vero e proprio di smart working, di attivarci e di poter subito lasciare a casa quei lavoratori che potevano usufruire di questo tipo di servizio. Perché questo inciso? Perché alcuni lavoratori purtroppo non potendo utilizzare questo tipo di modalità lavorativa, cioè da casa, col proprio computer, col computer aziendale per chi gli è stato assegnato, in questa fase abbiamo utilizzato altre forme di sospensione del lavoro.